Accogliendo il prossimo lettore, si tratta di Italo Francesco Baldo, vicepresidente della Bertoliana, già docente di storia e filosofia nei licei. È attento al valore e alla dignità dell'uomo, specie agli aspetti che coniugano il verum con il bonum e lo justum, non dimenticando il pulcrum. Prego. Come vicepresidente della Bertoliana devo ringraziare tutti gli addetti della Bertoliana che per questo avvenimento si sono dati veramente tanto da fare. La Bertoliana è la casa anche editrice della relazione di Antonio Pigafetta di molti anni fa e che speriamo magari di rieditare con l'aiuto di tutti. La mia lettura è qualche giorno in compagnia di Antonio Pigafetta e la sua relazione. Mercore mattina, per essere morto uno dei nostri nella nota passata, l'interprete ed io andassimo a domandare al re dove lo poteriamo seppellire. Trovassimo il re accompagnato da molti uomini a cui, fatta la debita e riverenzia, io gli dissi. Rispose, se io e i miei vassalli siamo tutti del tuo Signore, quanto maggiormente deve essere sua la terra? E gli dissi come volevamo consecrare il luogo e mettergli una croce. Rispose che era molto contento e che voleva adorare come noi altri. Fu sepolto lo morto nella piazza, al meglio potessimo. Per dargli buon esempio e poi la consacrassemo, sul tardi ne seppellissimo un altro. Portassimo molta mercanzia in terra e la mettessimo in una casa, qual è il re la tolse sovra sua fede e quattro uomini che erano restati per mercantare in grosso. Questi popoli vivono con giustizia, peso e misura, amano la pace, l'ozio e la quiete. Hanno bilancio del legno, lo legno ha una corda nel mezzo con la quale si tiene, d'un capo e piombo e dell'altro segni come quarti, terzi e libre. Quando volono pesare, pigliano la bilancia che è con tre fili, come le nostre, e la mettono sovra gli segni e così pesano giusto. Hanno misure grandissime senza fondo. Le giovani giocano alla zampogna, fate come le nostre, e le chiamano subin. Le case sono del legno, delle tavole e delle canne, edificate sopra pali grossi, alte da terra, che bisogna andarvi dentro con scale e hanno camere come le nostre. Sotto le case tenono li porci, capre e galline. Se trovano quivi, cornioli, lumache, alla Vicentina, grandi, belli a vedere, che ammazzano le balene, le quali li inghiottano vivi. Quando loro sono nel corpo, vennero fuori del suo coperto e li mangiano il core. Questa gente li trovano poi vivi, appresso del core delle balene morte. Questi cornioli hanno denti, la pelle negra, il coperto bianco e la carne. Sono buoni da mangiare e li chiamano la gan. Venere, dimostrassimo una bottega piena delle nostre mercanzie, per il che ristorano molto ammirati. Per metallo, ferro e l'altra mercanzia grossa ne davano oro. Per le minute ne davano riso, porci e capre con altre vetovaglie. Questi popoli ne davano dieci pesi di oro per tredici libri di ferro, un peso e circa di un ducato e mezzo. Lo capitano generale non volse se pigliasse troppo oro, perché sarebbe stato alcuno marinaro che avrebbe dato tutto lo suo per un poco di oro e avria disconciato lo traffico per sempre. Sabato, per aver promesso l'orea al capitano di farsi cristiano nella domenica, si fece nella piazza, che era sacrata, uno tribunale adornato di tapezzeria e rami de palmer per battizzarlo, e mandogli a dire che nella mattina non avesse paura delle bombarde, perciò che era nostro costume, nelle feste maggiori, di scaricarle senza pietre. Grazie a tutti.